Preghiera di liberazione di Padre Gabriele Amort, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore Dio onnipotente e misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo, esperita a me, dai miei amici e familiari, da coloro che possono aiutarmi, economicamente e spiritualmente, dal mondo intero, a ogni influsso diabolico di qualsiasi spirito maligno e da ogni anima dannata dall'intero inferno che ha su di me e su di loro, per il preziosissimo sangue di tuo Figlio Gesù, fa che il sangue immacolato e il Redentore rompa ogni legame sul mio corpo, sulla mia mente, sul mio lavoro, su quanti potrebbero offrire un lavoro e su tutte le cose mie ed altrui, e le difficoltà dell'intera vita mia ed altrui. O Santissima Vergine Maria Immacolata, O Nove Cori Angelifici, O San Michele Arcangelo, Santi tutti del Paradiso, mi consacre, consagro loro e vi chiedo l'intercessione di tutte le anime sante del Purgatorio. Intercedete per noi e tutti e veniti presto in nostro aiuto, e spezzate da subito le ultime zampate di Lucifero contro i figli della Benedetta Madre Maria Santissima e della Santissima Trinità. Ordino in questo preciso istante che ogni demonio ed anima dannata non possa avere nessuna influenza su di me, sulle categorie di persone che ho menzionato e sul mondo intero, affinché tutta l'umanità sia liberata in questo medesimo istante. Per la flagellazione, la corona di spine, la cruce, il sangue e la risurrezione di Gesù Cristo, per il Dio vero, per il Dio santo, per il Dio che tutto può, ordino ad ogni demonio ed anima dannata che non possano avere l'influenza alcuna su di me e sul mondo intero, e che si possa spezzare una volta per tutte e per sempre tutte le catene create che si sono verificate fino ad ora su di me e sul mondo intero. Benedite e liberate i vostri servi e serve fare i propri nomi, e benedite questa immagine e fare benedire un'immagine sagra ed elevarla verso il cielo, che vi presento e fate sì che questa immagine benedetta protegga me e il mondo intero, ci protegga dai satanisti, dai massoni, dai mafiosi, dai politici corrotti, da ogni altra infame categoria esistente sulla terra ed il mondo intero, e fate sì che nella mia casa, nelle mie cose, ed ogni altra categoria, nelle cose del mondo intero, il demonio non possa mai e poi mai avere più alcuna influenza, anche infinitesimale, nel nome di Gesù Cristo, Padre e Padrone della storia, nostro Signore e Salvatore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Se recitata tutti i giorni con fede, farà miracoli.